Dal 1 giugno al 31 ottobre nel territorio comunale di Coreglian Terminelli non sarà permessa la raccolta di funghi il sabato e la domenica ai non residenti o che non siano proprietari di terreni. È quanto ha deciso l'amministrazione comunale che applica la delibera regionale del 2 luglio 2018 su proposta dell'assessore Remaschi. La decisione dell'amministrazione corellina è valida fin da subito e avrà per il momento una durata di tre anni. Ma ecco i motivi che hanno spinto l'amministrazione a prendere questa direzione. Nasce dall'esigenza di un'attenzione al nostro territorio di montagna e quindi avevamo chiesto in data nel maggio del 2018 attraverso una richiesta formale all'assessorato della regione toscana alle politiche agricole e forestali di intervenire attraverso una delibera mirata proprio per salvaguardare il nostro ecosistema montano. Ultimamente la situazione si era fatta molto critica infatti soprattutto nei weekend per i residenti era diventato difficile anche raggiungere casa, auto parcheggiate in zone di pericolo o a chiudere addirittura accessi alle abitazioni senza poi considerare la totale mancanza di conoscenza delle regole fondamentali nella raccolta dei funghi per cui questa iniziativa ha anche lo scopo della salvaguardia dell'ecosistema. A far rispettare la normativa saranno tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio ma quali saranno le sanzioni previste? Ma questa delibera è stata fatta senza articolo 14 della legge 16 del 99 che è quella sulla raccolta dei funghi e praticamente le violazioni delle prescrizioni che vengono imposte prevedono una sanzione che va da 40 a 240 euro quindi il pagamento a misura ridotta è pari a 80 euro che verrà contestato nel caso in cui venissero individuati i soggetti che raccolgono senza venne titolo. Corelli è stato il primo comune ad accogliere la delibera regionale ma non è da escludere che anche altri comuni in futuro possano seguirlo.